L'immagine che ho, devo salvo a guardare, se no pure la gatta mi manderà a cagare. Sono talmente poco notato, che quando sono davanti allo specchio, anche la mia immagine non fa quello che faccio io. Sapeste com'è difficile farsi la barba col tuo te stesso che si distrae. Crozza nel paese delle meraviglie, questa sera alle 21.10 sulla Sera.